buongiorno 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 martedì 20 settembre si parte subito con il nostro fantastico polpettone super classico prosciutto cotto e provola pronti allora come vi dicevo oggi è martedì e ormai il martedì è una certezza c'è il nostro vitel tonnato allora il vitello è pronto ci dedichiamo alla salsa tonnata e sì stamattina vi faccio sognare con questo sound anni 80 perfetto giusto un attimo per raccontarvi delle nostre alette marinate appena tornate e poi basta così sentiamoci la musica allora siamo in banco i nostri imparati le cotolette di vitello il prosciutto di maiale perugino ripassiamo al nostro spettino di carne bianca gli straccetti appena affettati il polpettone già presentato il filetto di maiale sempre per un giro la tagliata e la pancetta al momento ci fermiamo qua tra poco ci sarà qualche incursione sicuramente oggi è martedì grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!